Il periodo natalizio a Nocera Inferiore ha portato davvero tanta popolarità. Memorabile il videomapping che ha portato migliaia di turisti e curiosi in città, ma anche la mostra fotografica esposta all'interno della coorte di Palazzo di Città con gli scatti di Basilio De Martino e Sara Di Martino e dei fotografi nocerini, che grazie alla loro passione raccontavano Nocera nella sua semplicità. A distanza di quattro mesi l'assessore Saverio D'Alessio raccontò una bella iniziativa tesa a stimolare nuove azioni sulle politiche sociali. La mostra che fu fatta nel periodo natalizio rientrava nelle attività natalizie e quindi i fotografi hanno messo su delle opere. Ognuno di essi raccontava la città di Nocera secondo il proprio occhio e secondo il modo di operare. Ora approfittando della vecchia delega ho richiamato i fotografi e mi hanno regalato le foto che sono state esposte qui nell'adrio del Palazzo Comunale e la settimana prossima partirà quest'asta di solidarietà su ebay dove chiaramente il cui ricavato andrà alle politiche sociali e quindi con un indirizzo che è quello del sostegno alla povertà. Per quanto riguarda questa manifestazione ringrazio tutti i fotografi che hanno consentito questa nuova bella iniziativa e prossimamente saremo attenti anche ad altre iniziative di questo genere.